Il prossimo evento della Uisi Unione Imprese Storiche Italiane si terrà il prossimo giugno, si terrà a Rossano dove è nata nel 1731 Amarelli Liquirizia, dove c'è un bellissimo museo che è il secondo museo di imprese in Italia per numero di visitatori. Cosa ci vuole anticipare di questa bellezza museale che voi siete stati in grado di realizzare? Intanto io credo che è uno degli esperimenti, anche considerando che è stato inaugurato nel 2001, quindi sono oramai tantissimi anni, ed è un esperimento che in realtà di marketing, di heritage culturale. In realtà i 60.000 visitatori entrano negli impianti, visitano il nostro museo, acquistano anche i prodotti, ma soprattutto cominciano a far parte di quella storia. Quindi è un modo per le aziende per aggregare e per raccontare e per far vedere che in realtà la storia che c'è in una scatolina di licurizia, così come ci può essere in un profumo della farmacia e erboristeria Santa Maria Novella, è un elemento distintivo ancora molto importante.